Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono sempre a sequesterno e oggi siamo tornati con un nuovo episodio di Eldaria a New Era. Io vi ricordo che nel canale c'è tutta la route di The Origins con Nevra e anche a New Era con Nevra. Quindi niente, non vedo l'ora di iniziare perché non so se vi ricordate ma nello scorso episodio Karen e Krom hanno annunciato che si stavano per sposare e io sono troppo emozionata per questo. Ma prima di iniziare vi ricordo di seguirmi su Facebook e su Instagram per rimanere sempre aggiornati, guardare i buon monthly favorites, leggere il weekly postaggio e che se volete supportare mai il canale potete dare un'occhiata al link Ko-fi in descrizione, ne sarei tanto tanto felice. E niente, io direi di iniziare questo episodio che si chiama Sorella per un giorno. Allora, il sole splende, gli uccelli cantano e tutti parlano del matrimonio di Karen e Krom, ma sono venuti da te con una richiesta speciale, tu, voi. Sorella per un giorno, è un onore che non si può rifutare, non so cosa voglia dire ma va bene così, lanciamo l'episodio. Non l'ho già mai riassunto. Inizia questo episodio di Eldaria. Non è stato facile aprire gli occhi, che ore erano? Siamo andati a letto tardi, abbiamo ballato a lungo, la mia mano ha cercato il corpo di Nevra accanto a me. Le mie dita incontrarono il calore della sua pelle nuda, oddio non mi ricordo che l'episodio si concludeva così, WTF, rabbrividi, sotto la mia carezza, dormi ancora. Si è addormentato prima di me, se ricordo bene. Ho chiuso gli occhi per un momento, forse posso tornare a dormire. Nel buio mi sono tornate in mente le immagini della scorsa notte. Dopo il momento di esitazione durante il discorso di Karen, la serata è stata deliziosa. Abbiamo mangiato bene, bevuto bene e ballato molto. Ho riso molto con Kory e Krom, che ballano entrambi in un... Non ho capito, che hanno entrambi il loro modo di ballare. Suppongo che non ci sia differenza. Siamo stati in grado di dimenticare per un momento tutto ciò che ci ha spaventato. E ho avuto l'opportunità di ballare con Nevra diverse volte, fino a quando sua sorella non l'ha preso in prestito. Non potevo rifiutare, ovviamente. Ho ballato il Valzer con Wanchu e poi con qualcun altro. Poi di nuovo con qualcun altro, finché non mi hanno fatto male le gambe. A quel punto Alaric mi ha invitato, ma non ce la facevo più. Ho avuto difficoltà a fargli capire cosa fosse un dolore al polpaccio. Ma è stata l'occasione per una bella risata con Ewellyn. Aprì di nuovo gli occhi quando sentì un movimento accanto a me. Mi rivolsi a Nevra le mie dita a ripresere il loro delicato balletto sulla pelle della sua schiena. Ho aperto un occhio con un sospiro e mi ha sorriso. Buongiorno, hai dormito bene? Sei sveglia da molto? Mi sono presa il tempo di baciargli la fronte prima di rispondere. Addrizzò la testa, le sue labbra cercarono le mie. Ci siamo scambiati un lungo dolce bacio. No, ho appena aperto gli occhi due secondi fa. O siamo misteriosamente sincronizzati o siamo stati risvegliati dalla stessa cosa. O forse ti ho toccato quando mi sono svegliata e questo ti ha svegliato? Sì, potrebbe essere, non sarebbe così divertente, ma potrebbe. Ho fatto scivolare indietro il lenzuolo mentre mi stavo stiracchiando. Lo sguardo di Nevra si perdeva in una confusione. Gli ho fatto un sorriso malizioso prima di alzarmi dal letto. Allora, cosa è in programma per oggi? Per ora niente, cosa ho fatto con il mio top? Probabilmente da qualche parte intorno al letto con il resto della tua roba. In effetto, tutti i miei vestiti erano sparsi sul pavimento. Mi sono vestita in fretta mentre pensavo a cosa avrei fatto della mia giornata. Immagino che qualcuno troverà qualcosa da farmi fare. Chi è? Chi è? Bene, ora, Corey è già nel laboratorio. Ci aspetta. Dopo se vuoi prenderti cinque minuti o anche dieci? No, no, non preoccuparti, ti seguirò. Meraviglioso, allora andiamo, non c'è tempo da perdere. Posso aiutarti anch'io se vuoi. Noi tre dovremmo essere in grado di occuparci delle cose. Non c'è bisogno di calpestarsi, il laboratorio non è molto grande. Va bene, allora ci vediamo più tardi, Sequi. Nevra mi ha detto un bacio sulla fronte prima di lasciare la stanza. Sono solo io? Sta diventando sempre più complicato stare insieme solo tra noi ragazze? Non lo so, forse? Wan-Chu si strense nelle spalle e fece il broncio. Ok, seguiamo Wan-Chu il laboratorio. Ok. Ah, eccoti, grande, come stai, Sequi? Non troppo esasta da ieri. Sto bene, grazie, immagino sia tardi. Non proprio, no, abbiamo diverse ore prima di pranzo. Ne avremo bisogno, sei riuscita a iniziare da sola? Sì, ho tutto pronto, quindi possiamo farli uno dopo l'altro. Perfetto, pensi che voi due ce la farete? Penso di sì, perché non ci aiuterai? Devo continuare i miei esperimenti con i portali. Devo trovare una soluzione per cercare di impedire che si aprano ovunque in qualsiasi modo. E idealmente essere in grado di impedire un'apertura artificiale in una determinata aria. Ho alcune idee, ma ci vorrà un po' per testarle tutte. Dobbiamo anche riuscire a chiudere quelli che sono già aperti. Sì, ma spero che trovare la soluzione a un problema mi aiuti a risolvere gli altri. E anche per questo che volevo il tuo aiuto in particolare, Sequi. La tua capacità di vedere il mana potrebbe essere utile. Certo, nessun problema, non esitare a chiedere. Grazie, stessa cosa se hai bisogno di me. Ho annuita e mi sono rivolta a Cori. Allora, dimmi, come posso aiutarti? La chizzone bianca mi ha guardato verso una panca su cui aveva sistemato vari contenitori. Sono voluminosi e pieni di ogni sorta di erbe e ingredienti alchemici. Sullo scaffale sopra il piano di lavoro c'erano dozzine di fiale vuote. Vedrai, è molto semplice, ho preparato gli ingredienti. Tutto quello che devi fare è seguire le dosi che ho scritto qui. Indico una pergamena con sopra scritto una ricetta. Prepari il composto io in una delle fiale vuote e me lo passi. Perfetto, funziona. Quando i contenitori sono vuoti, dove li riempio? Normalmente dovremmo averne abbastanza con quello che c'è. Se finiamo, ne prendiamo di più dalla riserva. Ok. Una volta che mi avrei passato la fiale, mi occuperò io di fare gli incantesimi appropriati. O preferiresti che facessimo il contrario. O che ci scambiamo di posto ogni 15 fiale. No, no, lascio a te, non so niente di incantesimi. Mi piacerebbe mescolare gli ingredienti il più possibile. Penso di potercela fare. Sì, temo che non abbiamo abbastanza tempo per insegnarti gli incantesimi stamattina. Ho annuito, se li conosce non ho intenzione di fare tutto per farlo per lei. Soprattutto perché non ho chiesto che mi insegnassero proprio niente. Inoltre, quando le pronunci male, c'è ancora un piccolo rischio di esplosione. Quindi, di nuovo, fare i mix andrà bene per me. Cori sospirò, guardando in lontananza. Peccato che tu non siena la guardia dell'assenzio. Avremmo potuto prenderci il tempo per insegnarti la vecchia lingua. Vero, Wanchu? Ci saremmo trovate benissimo. Wanchu al solo sguardo dal grosso libro che stava consultando. Dubito che avremmo avuto il tempo, in realtà. Visto che le ultime settimane sono state piuttosto impegnative. È che stiamo finendo il tempo in questo momento. La chizzone non sembrava cogliere il suggerimento. Avremmo potuto liberare un po' più di tempo, Cori. Penso che Wanchu vorrebbe che ci mettissimo al lavoro. Oh, giusto, mi dispiace, Wanchu, cominciamo subito. Mi sono sistemata alla mia postazione di lavoro per decifrare la ricetta. Non dovrebbe essere un problema. Ero d'accordo con il... Stavo facendo bene, ma... Non capisco, perché potrebbe essere una buona soluzione questa di qua di tradurre dialoghi, invece. Ho esitato un po' con le prime miscele, ma velocemente ci ho preso la mano. Dopo alcune volte non avevo più bisogno di guardare la ricetta. C'era qualcosa di rassicurante nel modo in cui i Cori pronunciavano gli incantesimi accanto a me. Vabbè, non credo ci sia bisogno di tradurli, visto che sono parole. La sua voce era infinitamente dolce e perfettamente bilanciata. Era difficile da riconoscerla. Dopo un po' di tempo Wanchu ha fatto uscire un borbottio di confusione, insomma, di delusione o un pianto di vittoria. E anche lei ha detto qualche cosa nella vecchia lingua. A me parlavano si creava questa strana armonia nei suoni. Mi stavo pentendo di non aver imparato anch'io qualche incantesimo. Quando è caduta la notte... Ah, beh, sì, effettivamente. Nessuna di noi si è disturbata nel dire nulla. Eravamo abituate a questi cambiamenti strani, veloci. Dopo qualche ora Wanchu si è unita a noi. Ah, con la faccia stanca, suppongo. Mi ha detto di fermarmi a fare i mix per un momento e quindi io mi sono interrotta. Dopo che Cori ha finito il suo incantesimo, si è girata verso la Feng Wanchu. Si, volevi dirci qualcosa? Niente particolare, ho bisogno di una pausa. Ho pensato che avresti voluto fermarti un attimo anche tu. Sicuro, la mia gola si sta seccando un po'. Stai bene, Wanchu, sembri nervosa. Non posso fare quello che voglio. Ho pensato per un momento che con l'incantesimo che ho composto avrei potuto... Finora non funziona, ho altre idee, ma questa è stata la mia migliore. È abbastanza raro che questo tipo di esperienza funzioni la prima volta. Non ho davvero aspettato fino a stamattina per iniziare. La prima volta è stato un bel po' di tempo fa. Ci arriverai, alla fine ci arrivi sempre. Wanchu si strinse nelle spalle con un mezzo sorriso. Se lo dici tu, non vuoi parlare d'altro? Ho bisogno di schiarirmi le idee e guardare il problema con occhi nuovi. Sì, certo, non preoccuparti. Cosa indosserai al matrimonio di Karen? Oh, è molto brava nell'improvvisare. Aveva preparato la sua domanda. Anche Wanchu è stata ovviamente colta di sorpresa. Io non lo so. Cosa indosso adesso, giusto? Cosa indosso adesso, giusto? Vuole sposarsi tra tre giorni? Non avrò il tempo di ordinare un vestito speciale. Immagino che Puriri avrà già del lavoro da fare sul suo vestito. È il vestito di Chrome. Immagino che lo costringerà a indossare un completo. Perché? Cosa indosserai? Anche quello che indosso adesso, per gli stessi motivi. Oh, mia sorella per un outfit da un giorno. Oh, mia sorella per un outfit da un... What? Me lo chiede. In caso contrario sarebbe inappropriato ovviamente. Mi scusi, sorella per un giorno? Che cos'è? È una tradizione in alcuni matrimoni. Si dice che provenga dal popolo delle cime. Non ho mai sentito parlare di un popolo delle cime. Ho dovuto ammettere di nuovo la mia ignoranza con una faccia. Sono fate che vivono al nord delle rock cascade sulla costa di Giada. Vivono in cima alle montagne, sulle loro cime appunto. Credo che nessuno me li abbia mai nominati. Non sono molti, vivono solitari in cima alle loro vette. Immaginate le kizune di Genkaku, ma ancora più eremitiche. Non devono essere persone molto felici. Di loro infatti non sappiamo nulla, non abbiamo quasi nessun contatto con loro. Ecco perché appena qualcuno inventa un'usanza dice che viene da loro. Dà un tocco tradizionale, ma nessuno può verificare se effettivamente fa parte della loro pratica. E così sono passati alcuni anni da quando questa tradizione di fratelli e sorelle per un giorno ha preso piede nelle terre di El. Gli sposi chiedono a persone fidate di essere i loro fratelli per la giornata. Queste persone, se accettano, dovrebbero dare la loro benedizione agli sposi. Attestare che il loro amore sincero è vero, quel genere di cose. In effetti si tratta principalmente di organizzare una festa due giorni prima del matrimonio. Gli sposi lo facevano da soli, ma hanno trovato un modo per sbarazzarsi di questo compito. Ora tutto quello che devo fare è venire alla festa e il loro fratello per la giornata... Che il loro fratello per la giornata ha organizzato per loro, mi sto confondendo. È una tradizione molto pratica se me lo chiedi. Ah bene, abbiamo più o meno la stessa cosa sulla terra. Da dove vengo io comunque si chiamano testimoni... Ma quando mai qui i testimoni organizzano il matrimonio? Scusa. Lo sapevo, il popolo dei picchi è un facile capo espiatorio. Ma perché testimoni? Per dimostrare che il matrimonio ha avuto luogo? Ti sposi senza nessun altro, ma i testimoni possono testimoniarlo. Ah no, sono usati per dimostrare che il matrimonio è reale. Che i fidanzati si conoscono bene da prima, che non si sposano solo per motivi legali. Sì, così come qui, in teoria comunque. In effetti dovrebbero aiutare con l'organizzazione del matrimonio... Ma quando mai, scusa? E soprattutto con la festicciola che lo precede, come è qui. Le spose e gli sposi di tutti i mondi odiano organizzare la propria festa. È bellissimo in un certo senso. Sono quelle piccole cose universali che ci uniscono, sai. Tuttavia, perché accetteresti di essere la sorella di Karen Ocromo per un giorno? Se pensi che sia solo un modo di perpassare un lavoro di routine. Due motivi. Primo l'outfit è sontuoso. Non abbastanza bello da convincermi a organizzare una festa con tutto il lavoro che ho già personalmente. Più che sufficiente per convincermi, rovinerò l'organizzazione e nessun problema. Ma soprattutto è molto brutto rifiutare. Dovrebbe davvero essere un grande onore. Se dicessi di no a Karen o a Chrome, non la prenderebbero molto bene. Quindi ti aspetti che te lo chieda no o no alla fine. Francamente no, vedrò il vestito o alunque cosa accada. Su di me o su qualcun altro a pensarci bene non fa molta differenza. Beh, anche lo vedrò meglio se è su qualcun altro. Pensavo che il divertimento fosse indossarlo. No, in realtà è più un piacere estetico. Preferisco vedere cose belle piuttosto che possederle o annuito. Non sono sicura di essere d'accordo con lei, ma capisco. E tu, Wanchu, accetteresti o te lo offrissero? Dubito che me lo chiederanno. Probabilmente non sono nella loro lista delle due persone preferite. Perché te ne servono due, uno per il fidanzato? Sì, visto che ci sono due feste prima del matrimonio, una per ciascuno degli sposi. Immagino che Nevra debba essere sulla lista. Wow, alla fine hai dimenticato qualcuno, vero? Un chizzone, un chizzone bianco? Beh, è possibile, non sto dicendo che non lo sia, sarei sorpresa. Scegliere Nevra sarebbe barare... Scegliere Nevra? Vabbè, ma lo sceglierebbe Chrome Nevra, suppongo. È già il fratello di Karen ogni giorno. Non di Chrome, avrebbe senso che lo chiedesse, giusto? Logica, logica. Riguardo il cuore, non la logica. Sono d'accordo con Wanchoo, Nevra tratta già Chrome come un fratello. Gli ha insegnato quasi tutto ciò che sa. Chrome gli è succeduto come capo della guardia d'ombra. E tecnicamente dopo il matrimonio sarà suo cognato. Pensavo, pensavano da amici a fratelli per un giorno accognati. Trovo che sia davvero logico se noi... Mi interruppi Wanchoo, mi fissò incuriosita. Cosa c'è che non vuoi Wanchoo? Ho detto qualcosa o... No, no, mi chiedevo se finirai per essere sorella per un giorno di uno di loro. Sopracciglia di Cory sono balzate in cima alla sua fronte. Mi guardò come se mi vedesse per la prima volta. Sì, come ho fatto a non pensarci prima? Per Chrome già, non credo. Penso che me lo chiederà... Che lo chiederà Nevra. E Karen e io andiamo d'accordo, ma probabilmente non così bene come lei e Cory. Forse, ma devi ammettere che avrebbe un po' di stile e un po' di prestigio anche. Avere il risorto Angel e Salvatore di Eldaria come sorella per un giorno. Devo ammettere che sarei tentata se fossi in lei. Sì, se è una questione di prestigio è meglio che chieda Wanchoo. La sua posizione è molto più prestigiosa della mia. Ma lei non ha la stuato nei giardini. So cosa significa, Cory. In ogni caso, se non te lo chiedere lei, lo farò io. Non hai intenzione di sposarti? Sono sicura che potrei trovare qualcuno. Non dico il contrario, ma ne vale la pena. Francamente direi di sì, sarebbe davvero di classe. Come tua sorella per un giorno non dovrei attestare la forza del tuo amore per il tuo fortunato partner? Sento che ora che me lo hai detto farei fatica a essere sincera. A meno che non trovi qualcuno che mi piace davvero. Per esempio, se chiedessi a Matthew. Puoi attestare che ho fatto di tutto per accontentarlo. È vero che hai fatto un sacco di guai. Sì, abbastanza da meritare il giorno del matrimonio. Ma lo sai che dopo rimarresti sposata con lui? Non è solo per un giorno e per sempre. Ma sarai mia sorella per un giorno, anche per sempre. Penso che ne valga la pena, non è vero, Wanju? Nulla vale la pena essere sposato con Matthew, no? Scusa, mi segue. Nessun problema, in linea di principio sono dalla tua parte qui. Ma scherzi a parte, cosa diresti a Karen se te lo chiedesse? Penso che accetterei, sei importante per lei. E se il vestito è bello come dice Corey, lo è. Eh, puoi fidarti di me. Corey faceva una smarfia mentre indicava la nostra postazione di lavoro. D'altra parte, stiamo chattando. Il nostro lavoro non si completa da solo. Stiamo chiacchierando. Vuoi tornare al lavoro, Wanju? Ti senti meglio? Sì, sì, hai ragione. Dobbiamo tornare al lavoro. Annuito, sono d'accordo con loro. Questa chiacchierata è stata carina, ma abbiamo perso abbastanza tempo. Mentre tornavo alla mia postazione, un bagliore dorato attirò la mia attenzione su uno scaffale. Non credevo di aver mai visto questo tipo di pozione. Corey, cosa sono queste pozioni? Non ne ho mai viste di simili. Questo è ciò che danno ai vampiri in modo che il sole non li bruci. Ne abbiamo fatti parecchi in anticipo, visto quanti sono. Ho annuito mentre prendevo la ricetta per dare un'occhiata. Oh, signore. Ho felicemente ripreso il mio lavoro come alchimista. Assistante alchimista. Mi ha permesso di concentrarmi su qualcosa e mi ha aiutato a schiarire la mente. Gli incattesimi di Corey hanno anche aiutato. Mi sono sentita cullata dal ritmo dei suoi incantesimi. Ha sembrato che anche Wanchu fosse meno sconvolta, meno di prima. Non ha trovato una soluzione e ha imparato a controllare la sua frustrazione. Nella seconda parte della giornata è andata più veloce della prima. Quando ho dato l'ultima fiala a Corey, siamo ritornate al lavoro. Non ho capito. Dopo aver pronunciato gli incantesimi, ha spostato la fiala accanto alle altre. Tutte le fiale sembravano diffondere una luce blu-verde. La prima fiala che aveva riempito brillava un po' più intensamente. È carino, vero? Sarà ancora più bella in poche ore. E stasera o domani avranno smesso di brillare. Ciò significa che sono pronti e che tutto ciò che dobbiamo fare è consegnarli. Penso che questo sarà sufficiente per tutti i Munguan. Per una prima dose, almeno sì, certamente. Ho contato extra, potrebbero anche essere in grado di averne due. E poiché hanno bisogno di una dose solo una o due volte al mese, abbiamo già un bel vantaggio. Mi guardai alle spalle per vedere se Wanchu era ancora concentrata sul suo lavoro. Mi sono lentamente avvicinata a Corey per parlare a bassa voce. Qualche giorno fa ho parlato con Wanchu delle condizioni dei Fenguan. Stava bene, sembrava troppo male. Sembrava era diminuita, anche Feng Zifu. Ma lei più di tutti, credo, le interruzioni la stanno davvero influenzando. Mi ha detto che dipendeva dai Fenguan, che non reagiscono tutti allo stesso modo. Ho dato un'altra rapida occhiata indietro, ma pensi che ci siano Fenguan che non provano alcun effetto? Corey si voltò a guardare Wanchu. Penso che ce ne sia solo uno, se questo che intendi. E so cosa stai pensando. Conosco la teoria di Huan Hua e Feng Zifu, e di questo che sto parlando, cosa ne pensi? Non sono un'esperta per niente. Ora, se qualcuno dovesse chiedere la mia opinione, quello che ti sto chiedendo, pensi che sia la Fenice? In realtà sono abbastanza divisa, ancora una volta non ne so molto. Ma ho la sensazione che se così fosse, lei sarebbe la prima a saperlo. Dovrebbe sentirlo in qualche modo, giusto? Non lo so, ti senti una chizzone? Sento le mie code, sento le mie orecchie. Tu lo senti quando i tuoi poteri si manifestano? Sì, ma prima che arrivassero non ho sentito niente. Forse ne ho una visione troppo romantica. Vedi, l'idea che sentiresti nel profondo che un destino ti sta chiamando? Ho scosso la testa ad ora questo tipo di storie. La prima volta che ho parlato ero ossessionata dalla storia del mio sacrificio. Freccamente non credo che funzioni così. Sai, ho sentito parlare del destino a giorni alterni da quando sono qui. E non ho mai provato niente del genere. Hai mai sentito l'oracolo chiamarti? Non ho mai dovuto sentirlo, sapeva sempre dove trovarmi. Ed era lo stesso con i miei poteri. Quando sono apparsi non avevo mai sentito niente di strano prima. Non strano né niente di simile. Era una sensazione completamente nuova per me. Lei scrollò le spalle con un sorriso. Quindi, in effetti, tenderei a credere a Wanhua e Feng Zifu. Conosco la Fenice meglio di chiunque altro, il quartiere generale comunque. E se pensi che Wanju potrebbe esserlo senza saperlo, ciò significa che non è nella posizione migliore per parlarne abbastanza stranamente. Quindi non vedo perché metterei in dubbio la parola di sua sorella. La chissone rimase pensierosa per un momento prima di annuire. Comunque, non so nemmeno perché ne parliamo così tanto. Non ho idea di quali siano i poteri della Fenice. Né quello che posso fare, né quello che devono fare. Né perché, né cosa dovrebbe fare. Quindi, molto concretamente, Wanju Wawa per me non cambia molto. Oh, immagina se Matthew ti sceglie come sua sorella per un giorno e io scelgo Wanju. Avremo l'ultimo angel e la reincarnazione della Fenice come sorella per un giorno. Sei ancora su quelle una sessione. Davvero, se fossi in te non sposerei, Matthew. Devi ammettere che sarebbe molto chic. Non ammetterò nulla, quell'idea non ha senso. Lo dice adesso, ma quando arriverà il momento? In quel momento Wanju si unì a noi, salvandomi dal dover rispondere a Corey. Hai finito? Bene, possiamo spedirli domani mattina. E tu, sei riuscita ad ottenere qualche risultato? Potrei avere una pista, ho bisogno che tu verifichi qualcosa. Nessun problema, vuoi provare subito? Se per te va bene, sì, mentre sono ancora concentrata su di esso. Bene, segui, puoi andare a pranzo, te lo sei guadagnato. Ho esitato un attimo, ho pensato che avremmo mangiato insieme. Ci vorrà un po' e non sarà in grado di aiutarci. Non devi aspettarci, è già ora di pranzo. Ok, allora ci vediamo dopo. Le due giovani donne salutarono e io mi diressi verso la porta. Ok, andiamo alla... Ok, ci siano molte persone nella sala da pranzo. Caruto è occupato. Ho visto Evelyn e Cameria seduti una di fronte all'altro. Evelyn mi ha fatto cenno di unirmi a loro. Ho salutato e mi sono diretta verso il bancone. Passando davanti a un tavolo ho notato Orglez che l'ha seduto lì solo. L'ho ignorato, non ho alcun desiderio di parlare con quell'uomo. Ah, segui, stai bene? Sì, ho preparato delle pozioni con Cori stamattina. Per i fenguan, Wanchoo me ne ha parlato. È terribile quello che sta succedendo. Spero che le pozioni li aiutino. Mi fido ciecamente di Cori e Wanchoo. Sanno cosa stanno facendo. Mi porse un piatto pieno di posate. Pieno. Ah, un piatto pieno e le posate. Rai tu. Sì, certo, mi dispiace. Non posso proprio restare a chiacchierare. Il sottile ho fissato qualcuno dietro di me. Non ho dovuto girarmi per indovinare che stavo guardando Orglez. Alcuni clienti mi danno del filo da torcere, sai. Non faccio fatica a crederti, allora ti lascio. Carruto mi fece l'occhiolino con un mezzo sorriso. Non finirò il piatto di Orglez se ne lascia qualcuno. Mi affrettai a raggiungere Evelyn e Cameria al loro tavolo. Come stai, Seque? Eri al laboratorio? È andata bene? Le pozzini sono fatte. Non ci resta che aspettare che si riposino. Secondo le ragazze saranno pronte domani mattina. Evelyn annui con un sospiro di sollievo. Ok, bene, bene, grazie. Francamente ho assistito solo Cori, non era molto... Come vanno le cose a rifugio? Le cose stanno migliorando. I vampiri si stanno rapidamente abituando al sangue sintetico. Più veloce di quanto pensassi in realtà. Per l'antica malattia dei vampiri, io e Wanchu siamo riusciti a trovare qualcosa. Non cura la malattia, ma li avevi sintomi. Ellevia. Ok. Sono un po' meno nervosi. E gli altri profughi si sono abituati alla loro presenza. Sono stati in grado di vedere che non erano pericolosi e sono meno aggressivi con loro. Tutto è del tutto tranquillo, ma siamo sulla buona strada. Anche se alcune persone trovano ogni opportunità per renderci la vita impossibile, come Caruto poco prima, Cameria lancia un'occhiata a Orgleds. Cosa sta facendo? Sta ancora cercando di organizzare la rivoluzione. Nemmeno. Se fosse così, di nuovo lo troverai relativamente rispettabile. Ma passa il tempo a lamentarsi. Il letto non è abbastanza comodo. La porta della sua baracca cigola. Cucinare? Cucinare? Cos'è questo miscuglio? La madriade emise un profondo sospiro di stanchezza. Quando non è la decorazione e il cibo, Caruto si avvicina al tavolo del capo dei vampiri trascinando gli ezzoccoli. Mi scusi Orgleds, credo di avermi sentito chiamare. Sì, come osi servirmelo come pasto? Non capisco, questo è quello che ho servito a tutti. Il cuoco indico è con il braccio alla sala da pranzo. Nessun altro ha trovato nulla di cui lamentarsi finora. Non ho problemi a credere nelle malefalde di Orgleds. Detto questo, dubito che Caruto gli abbia servito esattamente la stessa cosa che è servito a noi. Ha già avuto modo di ammettermi che a volte altera certe lastre. Non sarei sorpreso se lo facessi di nuovo con Orgleds. Forse perché voi gente di Elle siete abituati a questa pappa insipida. Evelyn, Camara e io abbiamo trattenuto il fiato. Caruto prende molto a cuore i commenti sulla sua cucina. Dubito che pappa insipida sia quella che gli piacerebbe. Ho guardato con ansia Juliette, la sua mannaia preferita appesa sopra il bancone. Forse vorresti maggiore qualcos'altro. Forse voglio una voglia particolare, un piatto preferito. So qual è il suo cibo preferito e sarei molto sorpreso che se lo servissimo qui. Non c'è bisogno, non sapresti come prepararlo comunque. Preferirei ancora vedere il mio piatto preferito macellato da te. Da dove sono posso vedere le nocchie di Caruto sbiancarsi. Vorrei rispettosamente sottolineare che io non ho alcun obbligo di servirti. Va bene, smettila di servirmi, sarà tutto, grazie. Con i pugni chiusi il satiro ha fatto tutto il possibile per contenere la sua rabbia. Sei libero di andare, troverò qualcosa di convinstibile in città. Non andrò da nessuna parte, mio buon amico. Voi e tu puoi andare avanti, avanti via con te. Un grande sorriso sardonico apparve sui volti di eboli in necameria. Orglez era senza parole, non è abituata alle persone che si oppongono. Scusa, forse non mi hai sentito bene o non mi hai capito. Esci dalla mia sala da pranzo, tornerete quando saprete apprezzare la mia arte. Il satiro ha affermato la sedia di Orglez per cascringerlo ad alzarsi. Vai fuori di qui, vai fuori di qui. Proprio adesso, al culmine della confusione, Orglez ha lasciato la cucina senza chiedere aiuto. Sì, bravo, questo è quello che vogliamo. Bravo, caruto. Presto l'intera sala da pranzo applaudì con entusiasmo. Le guance arrostate dalla rabbia e dall'imbarazzo feci tre rapidi inchini. Grazie, grazie, non avrei dovuto. Mi sono lasciato trasportare. Quando le persone dicono cose così violente sulla mia cucina, io mi dispiace che tu abbia dovuto assistere a quella sfortunata scena. Torno in cucina circondato da un applauso ancora più forte. Cameria si sedette di nuovo, un sorriso sul viso, sotto lo sguardo leggermente di disapprovazione di Evelyn. Che cos'era? Estremamente fastidioso, vero? Ma non dovremmo mancargli di rispetto così tanto. Rimane il capo di un clan che accogliamo tra le nostre mura. Che ti piaccia o meno come una persona non cambia nulla? Ok, ma ho il diritto di essere felice quando il suo comportamento si ritorce contro. I nostri disaccordi sono un po' più profondi di una semplice incompatibilità di carattere, però. Mangia le persone, letteralmente, mangia le persone. Quindi essere cacciato dalla sala da pranzo non mi sembra una punizione incredibilmente crudele. Caruto non l'ha buttato fuori per questo e lo sai benissimo. Sì, ma penso che sia salutare e tenerlo a mente, comunque. In più, piccoli lord difficili dopo un po', forse aiuterà anche a lui a scendere dal suo piedistallo. Non puoi comportarti come un maiale grasso che, per sempre, senza che qualcuno si arrabbia, Evelyn si strinse le spalle e incarnò le sopracciglia con il broncio. Sono d'accordo, ma alzarsi a applaudire mi ha fatto stare bene tutto qui. Mi scuso se lo trovi inappropriato. Che ci facevi nella sala da pranzo, comunque? Non vedo altri vampiri o rifiugiati, in generale. Questo perché la sala da pranzo è per la guardia, in teoria. Questo è solo per i guardiani. È Leiftan, se ho capito bene. Considerando che c'è una sua stata in giardino. Leiftan è un caso speciale, lo consideriamo un guardiano onorario. Oh, ma non sto criticando, capisco perfettamente. E Matthew può ancora venire a mangiare qui? Eh, sì, anche, diciamo che la mezza è riservata a chi ha una stanza nel palazzo. Oh, perché, a quanto pare, il laboratorio gli è vietato ora? Non ha niente a che fare con il suo status, è Wanchu. Se domani Matthew si unirà alla guardia di Ossidane, il laboratorio, sai, gli sarà ancora vietato. Inoltre, quando era nella guardia dell'assenso, lei non lo lasciava entrare per la maggior parte del tempo. Sento che tutto sta diventando sempre più complicato, giusto? E amministrativamente parlando, voglio dire, una volta c'erano quattro guardie? Quattro? Tre? Quelli che erano in una guardia avevano una stanza e potevano andare dove volevano il quartier generale. Quell'unica, e quella era l'unica regola, se non ricordo male. La situazione è diventata più complessa e ci siamo dovuti adattare a nuovi casi. Posso capire bene, è bello adattarsi, non dico il contrario. Quindi la sala da pranzo è solo per chi ha una stanza, più Orglez. Wanwa pensava che concedergli certi privilegi lo avrebbe aiutato a tenerlo sotto controllo. Penso che sia stata Karen a darle quest'idea, che sarebbe meno pronta a ribellarsi se la vita qui fosse piacevole. Va bene, ma il congetto ha i suoi limiti. Apparentemente così, non pensavo che lo avremmo scoperto così presto. Va detto che ha testato i limiti quando è arrivato. Ma non preoccuparti, non è un grosso problema. Non ha già quasi alleati, nemmeno tra i vampiri. Ci sono due o tre che hanno ancora un po' di paura di lui, ma chiaramente non abbastanza per rappresentare una vera minaccia. Quindi, in termini assoluti, se Karuto vuole rimetterla a suo posto, non ho niente in contrario. Sotto le spalle, onestamente non mi interessa davvero. Capisco che Karuto non deve lasciarti insultare. Capisco che Evelin pensa che non sia giusto maltrattare gli ospiti del quartier generale. Ma non mi dispiace per Orglez, e non ho paura di iniziare un incidente diplomatico con lui. Parla con le persone, le persone parlano con lui, non sono scocciata. Camaria depose le sue posate nel piatto. Bene, non è tutta la storia, ma devo tornare indietro. Preferisco comunque non lasciarli soli. Verrò con te, uno dei rifiugiati ha ancora bisogno di cure. Ci vediamo dopo, allora, se passo al rifugio. Le due donne riportarono i loro piatti a Karuto e se ne andarono. Ho finito il mio pranzo, prendendomi il mio tempo. Non ho niente di speciale in programma per il resto della giornata. Potrei provare a vedere cosa sta facendo Neva questo pomeriggio. Oppure potrei fare una passeggiata per godermi la solitudine. Oh, dovrei trovare Leiftan e Cori per fare di nuovo una sessione di meditazione guidata. Non vedo l'ora di vedere i progressi di Leiftan, è davvero impressionante. Questo potrebbe già tenermi occupata per buona parte del pomeriggio. Dovrei anche trovare Karen. Deve aver bisogno di aiuto con i preparativi per il matrimonio. Ho riportato il mio piatto al bancone e mi sono diretta verso l'uscita. Ok. Karen e Chrome mi fissarono entrambi, un ampio sorriso sulle labbra. Beh, non ho dovuto cercare a lungo, buon per me. Veramente, c'era qualcosa in particolare di cui volevi parlarmi. Sì, lo sai che ci sposiamo tra tre giorni, vero? Non sembra molto a suo agio, è insolito. Sì, ero lì ieri sera quando l'ha annunciato. Beh, volevo, beh, volevamo chiederti. Saresti mia sorella per un giorno? Perché Chrome ha questa faccia? Ho quasi gridato, Karen mi ha lanciato uno sguardo furioso. In che senso? Ah, quasi gridato. Ah, no, scusa, non ho capito. È Chrome che chiede alla guardiana di essere sua sorella per un giorno, non Karen. Ok, ok. Sì, l'ho posto prima la domanda, solo per la cronaca. Dovevamo chiederglielo insieme. Sì, se pensi che non ti abbia visto arrivare, vuoi giocare così? Ok, bene. Sei qui ti sto ufficialmente chiedendo di essere mia sorella per un giorno, non so davvero cosa dire. Avevo programmato di dire sì a Karen, ma Chrome mi ha chiesto prima. Non so cosa dovrei fare. Entrambi mi fissarono i loro occhi enormi, quasi sporgenti pieni di speranza. Io, aspetta, come andranno le cose allora? A chi dovrei rispondere? Non ero preparata per... In termini assoluti potresti dire totalmente sì a entrambi. Era organizzata... Organizza due feste, quindi oltre al resto. Ma non ti daremmo la colpa se accettassi solo per uno di noi due. Venendo presente che ho chiesto prima, però... È vero, ma l'idea l'avevo già avuta. Non sono sicura che faccia alcuna differenza. Penso che cambi tutto. Non mi piace molto la posizione in cui mi hanno messo. Se avessi immaginato che me lo avrebbero chiesto entrambi... Hanno smesso di litigare per fissarmi di nuovo? Dai, devi prendere una decisione. Se è qui, nessuna scelta. Non posso dire di no a nessuno dei due. Sarò solo erola per entrambi per un giorno. Karen emise un suono acuto e Chrome emise un rugito di eccitazione. Entrami mi hanno abbracciato. Grazie, grazie, grazie. Sarà fantastico. Vedrai, non te ne pentirai. Ci divertiremo un sacco. No, no, sono io. È un grande onore per me. Non sapevo che fosse possibile essere la sorella per un giorno sia di tutti e due gli sposi. L'abbiamo appena inventato, ma siamo entusiasti. Decisamente, siamo pionieri. Sarà fantastico. Scoppiai a ridere mentre li abbracciavamo entrambi. D'altra parte, non possiamo rimanere più a lungo. Abbiamo ancora molte cose da fare. Ricordati di ritirare il tuo vestito dal laboratorio di Puriri. Il famoso vestito Cori avrà un ictus quando mi vedrà con esso. Ok, nessun problema. Vado a controllare che vada tutto bene. Ok. E se ho capito bene, devo organizzarti una festicciola, giusto? Anzi, dovresti organizzarne anche due. Avevo sperato che la natura non mista di queste feste fosse una tradizione esclusivamente terrestre. Tradizionalmente, i uomini e donne sono separate per queste feste. Ho avuto un pensiero per il popolo delle cime. È incredibile come le loro tradizioni si adattino bene alla nostra idea di intrattenimento. Lo sposo con i suoi amici, la sposa con i suoi amici. Certo, sei invitata al mio, visto che sei tu ad organizzarlo. Allora passerò un momento con ciascuno di voi. Se ho contatto correttamente, dovrebbe aver luogo stasera. Se puoi farlo, sì, altrimenti non manca un giorno. Va bene, allora vedrò cosa posso fare. Se hai bisogno di una mano, penso che i burreco possano aiutarti. Siano abituati a organizzare feste di addio alla vita di single. È un'espressione fissa o la stai solo descrivendo con parole tue? No, questa è l'espressione che usiamo per descriverli. Addio alle feste della vita da single. A volte diciamo anche F2SL... Sono soprattutto i giovani a dirlo. Ok, proverò a controllare con i burreco. Grazie ancora. Sei qui, non sai quanto significhi per noi. Le ho offerto un sorriso sincero. Tuttavia, dobbiamo davvero andare, quindi ci vediamo stasera. Mi ha baciato le guance e si sono diretti verso le camere da letto. Sono rimasta pensierosa per un momento, solo nella sala delle porte. Il mio programma è molto più impegnativo di quanto pensassi. Va bene, allora da dove comincio? Andiamo a vedere... Vai a trovare Cori e Leptan per vedere se voglio meditare con te ma cosa. Va bene, pure ecco sono qui. Avevo paura che stessero sonnecchiando. E ti sto dicendo che questa è l'opportunità unica. E ti sto dicendo che con te ci sono tre opportunità uniche al giorno. Non puoi lasciarle in pace. Puoi vedere anche se non... Puoi vedere che non è interessato. Ma questa è un'occasione d'oro. Non avremo due possibilità come questa. Come stai, purreru? La fusa ti danno fastidio? Hai bisogno di una mano? No, no, è quello... Va tutto bene, grazie. Sei qui. Sei qui, sei molto carina, ma stiamo parlando di affari. Sono venuta per assumere i tuoi servizi. Di cosa potrebbe aver bisogno una donna come te? Devo organizzare una festa di addio alla vita da single. E mi è stato detto che potevi aiutarmi. Due, appunto. Una per Karen e una per Chrome. Ah, sei stata convolta in questo. Devi imparare a dire di no. Non preoccuparti di questo, purral. Chiedimi di farti un favore e vedi se posso dire di no. Ma ora ci stai chiedendo un favore, se ho capito bene. Non ascoltarlo. Sei qui ti aiuteremo, naturalmente. Se ho capito bene il matrimonio in arrivo. Quando si terranno le feste? Riderà idealmente stasera. Sembrava che fosse soffocato da una palla di pelo. Possiamo farcela. Abbiamo affrontato sfide peggiori. Sì, sì, va tutto bene. Possiamo farlo? Va bene. Allora abbiamo formule già pronte per questo tipo di eventi. Siamo in grado di gestire qualsiasi cosa, dal cibo alla decorazione. Pensavo che Caruto si sarebbe preso cura del cibo. È un po' tardi per incasinare i suoi impegni. Ma non preoccuparti... Forse incastrare era, aiuto. Ma non preoccuparti, penseremo a tutto noi. Grazie, Burroy. Sapevo di poter contare su di te. Puoi sempre contare su di noi, dai. Per Crom, forse posso procurarti una o due a Madriadi. Non stai parlando dei profughi che abbiamo riportato dalla terra, vero? Le orecchie di Purral premono contro il suo cranio. Ricordi che sono una guardiana, faccio parte della guardia. Se dovessi suggerire qualcosa del genere, dovrei andare a prendere Yamon. Non mi piace usare Yamon come se fosse lupo cattivo. Allo stesso tempo è un orco, come l'orco delle colline. Che cosa? No, cosa stai immaginando? Niente affatto. Dobbiamo esserci frantesi, non offro niente. Ti lascerò dire quello che vuoi e te lo procurerò. Va bene, facciamo così. Beh, come possiamo aiutarti? Beh, non ho letto, cazzo. Aspettami un secondo, torno subito. Nessun problema, ti aspettiamo. Inizieremo a pensare. Sono corso da Nevra che attraversavo la piazza del mercato. Nevra, non sai quanto sono felice di vederti. L'ho abbracciato e lui mi ha preso il mento tra le dita come se volesse esaminarmi. Il suo occhio grigio era quasi intimidatorio, quasi. Anch'io sono sempre felice di vederti, ma... Perché ho la sensazione che potrei non godermi quello che verrà dopo? Perché sono testa di cazzo, allora? Non in senso stretto, no? Non sono sopraffatto. Meraviglioso, vedi... Forse io perché sono impegnato. Vedi, sono la sorella di Chrome e Karen per un giorno. Tutti e due. Questo è inaudito, per quanto ne so. Sì, Chrome sembrava pensare che fossero dei pionieri. Avrei preferito che fosse un pioniere in un altro campo, ma... Beh, lo vedremo più avanti. Ma resta il fatto che devi organizzare la loro festa da Dio e che vorresti che ti aiutassi. Beh, i miei problemi sono i tuoi, in un certo senso, giusto? Immagino di sì, a condizione che il favore possa essere restituito. Hai parlato con i Purreco, immagino. Ci stanno aspettando, dai. L'ho preso per mano per unirsi ai Purreco. Oh, ti sei trovato un assistente? Sei intraprendente? Ho pensato che sarebbe stato più divertente farlo insieme. Ottima idea, più siamo meglio è. Allora, cosa pensi di aver bisogno? Cibo, bevande, immagino. Sì, già, per, non so, circa 15 persone in totale. Direi 6 o 7 da parte di carne, né circa 10 da parte di Chrome. Ho guardato il mio assistente per conferma. Il suo sguardo uago è per un momento mentre cantava? Sì, penso che sia giusto. D'altra parte, per Chrome potrebbe essere necessario contare un po' di più. Infatti, un piano per extra, beh, ha buon appetito. In effetti, conta doppio e non esitare a provare a confondere un po' le cose. Sai cosa? Perché non ne facciamo il tema della serata? Pensavo che il tema della serata fosse il suo matrimonio con mia sorella. Ok, ma non il tema, diciamo, l'obiettivo principale della nostra organizzazione. Penso che sia una buona idea, in realtà. L'ho già visto mangiare qui al... ...marcato? Va bene, lo scrivo. Tanto cibo di tutti i tipi. Gli piace anche bere quanto mangiare? Non che io sappia, voglio dire nevra? No, non particolarmente. Conta su dosi normali. Va bene, la solita cifra. Allora, questo è già abbastanza buono. E ancora un addio alla festa della vita da single. Nessun problema, posso procurarti tutto per stasera. Non dimenticarti le decorazioni, purroi, sono importanti. Non preoccuparti, avevo intenzione di parlarne. Ma per cominciare, dove pensavi di organizzare le feste? Se ci hai pensato, prometto che non ci ho pensato. Per Chrome, prima di tutto, immagino che la sala da pranzo andrà bene, giusto? C'è abbastanza spazio, tutti possono mangiare a tavola. E sarà utile essere vicino alla cucina se finiamo il cibo. A meno che non ti venga in mente qualcos'altro ne avrà. No, sì, ha senso. Perfetto, ciò renderà più facile per noi impostare. E prenderò note, per Karen hai qualche damp, per un posto, la mia prima proposta sarebbe stata anche la sala da pranzo. Allora, in realtà siamo all'episodio, va avanti già da un po', quindi io direi di chiudere qui. E niente, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!